23 gennaio 1996 Sono da poco passato le 16.30 quando al quadrivo di Secondigliano il cedimento di una galleria sotterranea che doveva servire a migliorare la viabilità della zona causa lo scoppio di una condotta del gas Si apre un'enorme voragine che inghiotta case e negozi 11 persone perdono la vita Stefania Bellone, Serena De Santi 6.000 allaudati, Mario De Girolamo Gennaro De Luca, Giuseppe Petrilesi Francesco Russo, Alfonso Scala Pasquale Tisvestro, Michele Spartaco e Ciro Vazzarella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.